Musica Quello che stiamo cercando di costruire è un futuro diverso da quello che molti si aspettano, comunque si aspettano da quello che è il sindacato. Musica Quell'idea diversa che non rispecchi più il dire io ho un bisogno quindi vado dal sindacato perché mi devono risolvere un problema. Musica È il sindacato che si muove e va nel posto di lavoro. Musica La naspia lo sai, quando mi chiami si prende l'appuntamento. Musica Prezzosa, utile, veloce e aggiungo a titolo personale il fatto che con lui veramente mi trovo molto bene. Musica Come sono adesso i rapporti e come vogliamo che si mantengano il sindacato è un partner. C'è questo, come lo gestiamo insieme, cosa si può fare? Non è scontato alzare il telefono e avere di fronte una persona che o viene, si presenta oppure si risponde. Vorrei esagerare perché poi dopo sembra che, però, questa è la realtà dei rapporti tra il Parco Hotel Napoleone e l'organizzazione sindacale che lui rappresenta qui. Va dalla lavoratrice, va dal lavoratore, va dai lavoratori tutti per cercare di trasmettere un'idea che non è mai passita in tutti questi anni. E cercare di far capire ai giovani, a tutti, che la CGI è una grande famiglia, una famiglia di tutti quelli che credono alla stessa idea, che credono che comunque si possa cercare di migliorare il mondo in cui viviamo, partendo dal mondo del lavoro. Grazie per la visione! Grazie a tutti!